Buonasera, buonasera, ci siamo fatti attendere un po', ma l'evento di fine anno, l'evento dell'anno per quanto riguarda la moda, è sempre in questa piazza, è sempre soltanto le migliori cose che vi raccontiamo. Bello essere in questa piazza, ma voglio chiamare subito, perché in un'occasione importante non si può andare avanti, ci serve una compagna di viaggi, eccola qua. La compagna di viaggi che mi accompagna, già mi accompagna durante questa Kermest, questa festeggiata musicale e di moda, è lei Aurora Folcarelli. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Maurizio, grazie per essere intervenuti in tantissimi, siete stupendi come sempre, è bellissimo tornare qui a Cassino ogni anno. Andiamo avanti con una delle eccellenze di Cassino, l'hai appena detto, sì, bravissimo, bravo, io volevo tra l'altro ringraziarle perché sono state gentilissime. Sono piombata oggi nel loro negozio e mi hanno fornito questo splendido abito per questa sera, quindi ringrazio Giulia e ringrazio veramente tutti coloro che lavorano per questa azienda Marino, alta moda donna, ma ci saranno le modelle che indosseranno anche i gioielli, i gioielli di questa sera che sono con l'idea gioiello, gioielleria in piazza Diaz a Cassino e a Frosinone. E poi gli occhiali da ottica Point Vision, vista e udito in Viale Dante a Cassino, Ceprano in Via Gioberti. E le conciature trucco naturalmente, l'abbiamo detto ampiamente, centro bio naturale Shamisen, estetica parrucchiere, corso della Repubblica Cassino. E allora siamo pronti con Marino, abbigliamento donna, alta moda, cerimonia prête à portée. Questa sera vedrete in anteprima la collezione Max Mara 2016-2017 e i capi eleganti di Silva Ernesti. Allora signore e signori, a voi. È un grande piacere per voi in passerella. Marino! Allora signore e signori, a voi. These days, everything slips through my fingers The silence of my palm as I linger I should cut the meat from the bones I should save the gold from the stones I should save the gold from the stones I should save the gold from the stones I should stick to my fingers This days, everything I make is a mess I should stack to my fingers Grazie a tutti 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 Grazie a tutti